Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI traffico bloccato per un incidente avvenuto tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. In A1 ho segnalato un'auto in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Sulla Grossetofano riduzione di carreggiata a causa di una frana tra Alberoro e Montagnano in direzione di Siena. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Firenze Impruneta e San Casciano Nord, sempre in direzione Siena. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze per i lavori della tramvia non sarà più possibile attraversare via dello statuto in corrispondenza dell'intersezione con via delle 5 giornate. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!